Eccoci qui, salve a tutti, la domanda che vorrei affrontare con voi è è giusto che la Finlandia e la Svezia entrino nella Nato? La Finlandia e la Svezia devono poter entrare nella Nato? Noi conosciamo la risposta di Biden, di Stoltenberg, dell'Unione Europea, o meglio, della Presidente della Commissione Europea, che è anche la risposta che ci viene continuamente proposta dai principali media italiani. Certo, la Finlandia deve poter entrare nella Nato perché lo ha chiesto, e se qualcuno cercasse di opporsi all'ingresso della Finlandia nella Nato, beh, quella persona è davvero una persona che disprezza la libertà, perché è una questione di libertà dei popoli. I popoli sono liberi di scegliere, i popoli sono liberi di decidere. E se il Parlamento della Finlandia ha chiesto e ha deciso di entrare nella Nato, è giusto che entri nella Nato. In realtà la libertà dei popoli non c'entra proprio niente con il processo di integrazione di uno Stato nella Nato. Quello che noi vediamo, un Parlamento che approva una risoluzione per entrare nella Nato, è soltanto l'atto finale di un processo che inizia ben prima e che chiaramente viene tenuto in larga parte nascosto. Sono gli Stati Uniti che decidono quale paese sia utile far entrare nella Nato per far avanzare gli interessi americani nel mondo. Dunque gli Stati Uniti stabiliscono contatti con il governo in questione, il governo prescelto, e portano avanti questo tipo di dialogo fino all'approvazione da parte di quel Parlamento, in questo caso il Parlamento della Finlandia, di una risoluzione per l'ingresso del paese nella Nato. Se un paese non gradito agli Stati Uniti, o comunque non utile a far avanzare gli interessi americani nel mondo, volesse entrare nella Nato, semplicemente non entrerebbe. E se fosse vero che per entrare nella Nato basta semplicemente desiderarlo, o che qualunque Parlamento approvi un atto per entrare nella Nato, nella Nato ci sarebbero decine e decine di paesi. Certo, per poter entrare nella Nato bisogna rispettare una serie di parametri e di requisiti, ma i paesi che potenzialmente possono raggiungere quei parametri e rispettare quei requisiti sono molto più numerosi di quelli che effettivamente compongono la Nato. Quindi in altre parole, non basta desiderare di entrare nella Nato, è necessario che l'ingresso della Nato di un nuovo paese sia utile e funzionale all'avanzamento degli interessi americani nel mondo. Volete una prova? Semplicemente dobbiamo porci una domanda. Qual è il paese al mondo che per decenni e decenni ha avuto il più grande interesse a entrare nella Nato? Israele. Israele avrebbe ricavato un beneficio immenso dall'ingresso nella Nato. Pensate quale enorme fortuna Israele avrebbe ricavato dal beneficio dell'articolo 5 del Trattato dell'Alleanza Atlantica, quello sulla difesa collettiva. Se uno Stato viene aggredito, se uno Stato membro, se un membro della Nato viene aggredito dall'esterno e da uno Stato che non fa parte della Nato, gli altri paesi della Nato sono tenuti a intervenire in difesa dello Stato della Nato aggredito. Israele è un piccolo paese. Adesso i suoi rapporti con i vicini sono incredibilmente migliorati, ma per decenni e decenni ha vissuto in un contesto profondamente ostile e pericolosissimo. Eppure Israele non è mai entrata nella Nato, perché gli Stati Uniti ritenevano che per una serie di delicati equilibri geopolitici l'ingresso di Israele nella Nato non fosse una buona idea. D'altra parte, gli Stati Uniti sono legatissimi all'Arabia Saudita e anche a Israele. Per anni Israele e l'Arabia Saudita sono stati paesi nemici, quindi l'eventuale ingresso di Israele nella Nato avrebbe creato un imbarazzo delle difficoltà agli Stati Uniti, i quali avrebbero avuto difficoltà a gestire i rapporti con l'Arabia Saudita essendo Israele entrata nella Nato. E poi ci sono tante altre ragioni per cui gli Stati Uniti hanno ritenuto che Israele non dovesse entrare nella Nato, infatti Israele non è un membro della Nato. Proviamo a fare un discorso invece sull'Iran. Voi sentite alcuni professori universitari nelle televisioni italiane, professori di scienza politica, professori di relazioni internazionali, i quali dicono che è proprio necessario che la Finlandia entri nella Nato, è una questione di libertà. Ebbene, ma se dobbiamo batterci perché tutti i paesi siano liberi di sviluppare le politiche estere che preferiscono, perché noi impediamo all'Iran di sviluppare l'energia nucleare a fini civili? O perché impediamo che l'Iran possa sviluppare l'arma nucleare, ma consentiamo invece a Israele di possederla? E la risposta è molto semplice, perché la libertà nell'arena internazionale non esiste, o comunque è un concetto molto relativo. Nell'arena internazionale decidono le superpotenze. Le questioni, almeno sulle questioni più importanti relative alla vita politica internazionale, sono decisioni che vengono prese con il consenso delle grandi potenze. La politica internazionale semplicemente funziona in questo modo. La Finlandia è libera di entrare nella Nato, ma l'Iran non è libero di sviluppare il tipo di politica estera che preferisce, di certo non è libero di sviluppare l'energia nucleare, come fanno altri paesi che sono alleati degli Stati Uniti. Noi priviamo l'Iran di questa libertà. Esiste, infatti, una dottrina israeliana che si chiama dottrina Begin, dal nome del primo ministro che l'ha ideata. Nel giugno del 1981 Israele bombardò a sorpresa il reattore nucleare di Osirak in Iraq sulla base del sospetto che lì si costruissero armi di distruzione di massa. La dottrina Begin, la dottrina israeliana, la dottrina Begin, è un atto di autodifesa anticipatoria. Mi sono occupato di questa dottrina Begin nel mio libro che si intitola ISIS, i terroristi più fortunati del mondo e tutto ciò che è stato fatto per favorirli, pubblicato da Rizzoli nel 2016. Io in maniera molto rudimentale, che come vi ho detto, e mi scuso di questo, non so utilizzare ancora questi potenti mezzi informatici come dovrei, quindi non sono in grado di far scorrere sul desktop la copertina di questo mio libro, ma per quanti fossero interessati, si tratta di questo libro. ISIS, i terroristi più fortunati del mondo e tutto ciò che è stato fatto per favorirli. Ricordate che il senso profondo della vita di uno studioso, almeno questo vale per me, è nei libri. Scrivere libri è il senso profondo della mia vita di studioso. Non ho mai avuto l'ambizione di entrare in politica, non ho mai avuto interesse per coltivare il potere, proprio perché la coltivazione del potere impedisce di studiare. Questo l'ho detto anche in una mia intervista, quando ricorderete, tutti quanti mi davano per candidato con questo o con quel partito, e io dissi proprio così, per me entrare in Parlamento sarebbe una frizione, perché mi impedirebbe di studiare. Però, se leggeste i miei libri, questo per me sarebbe un dono particolare, perché, ripeto, il senso della mia vita di studioso è proprio nei libri che scrivo. E, ad ogni modo, il caso della dottrina Begin è molto chiaro, molto chiaro, si tratta di un atto di autodifesa anticipatoria. Cosa vuol dire? Vuol dire che Israele si sente in diritto di bombardare quegli stati, nel caso dell'Iraq, ma anche dell'Iran, l'Iran questo lo sa bene, che vogliono sviluppare una linea di politica estera, o che vogliono sviluppare al proprio interno, quindi parliamo di politica interna, determinate politiche energetiche, militari, fate voi, Israele ritiene che questi paesi non possano farlo e che debbano essere bombardati. Perché il discorso di Israele è voi non potete sviluppare politiche interne, scusate, come sempre ho dimenticato di spegnere il mio cellulare, di togliere la suoneria, ma il discorso di Israele è questo, il messaggio che Israele porge all'Iran, e che porge all'Iraq con il pieno sostegno della Casa Bianca, del blocco occidentale, in politica internazionale la libertà non esiste. Siamo noi che decidiamo ciò che l'Iran può fare, che la Corea del Nord può fare, che l'Iraq può fare, che la Siria può fare. Quindi quando in televisione sentite qualcuno dire la Finlandia deve entrare nella NATO perché è una questione di libertà dei popoli, sappiate che è un propagandista. È un propagandista. Proprio come certi professori universitari in Russia o come certi giornalisti in Russia, chiaramente ci sono anche giornalisti che si oppongono al regime di Putin, ma il messaggio che voglio farvi arrivare è sempre lo stesso, ne ho parlato anche in un mio video precedente. L'Italia è un paese sotto propaganda, il livello di disinformazione, di manipolazione dell'opinione pubblica è pari a quello che esiste in Russia e ne avrete una conferma. Tutte le volte che voi sentite un professore universitario, un giornalista, un conduttore radiofonico, un conduttore televisivo dire la Finlandia deve entrare nella NATO perché è una questione di libertà, di rispetto della libertà del popolo finlandese, potete tranquillamente mettervi al sicuro e dire con assoluta certezza quel giornalista, quel professore universitario è un propagandista della NATO, è un propagandista occidentale, è una persona che utilizza il proprio sapere non per liberare le persone dall'oppressione dell'ignoranza, per liberare le persone dalla manipolazione delle coscienze, è una persona che utilizza i propri studi, la propria cultura, i propri titoli per aiutare, per favorire questo processo di manipolazione dell'informazione in Italia, questo processo di manipolazione dell'opinione pubblica per promuovere politiche di guerra in Ucraina e non soltanto, perché chiaramente l'ingresso della Finlandia nella NATO prospetta nuove crisi e probabilmente anche nuove guerre, speriamo di no, non sto dicendo che scoppierà una guerra tra la Finlandia e la Russia, sto dicendo però che andando avanti di questo passo le probabilità che scoppino nuove guerre con la Russia sempre più terrificanti aumentano anziché diminuire, esattamente quello che dicevo nel 2018, stiamo attenti perché se proseguiamo lungo questa direzione nei confronti della Russia in Ucraina certamente scoppierà una guerra tra la Russia e l'Ucraina che pagheranno gli ucraini perché noi stiamo spingendo un popolo debolissimo, il popolo ucraino, tra le braccia di uno stato fortissimo, una superpotenza militare. Vi ringrazio di avermi seguito, termino con il nostro slogan, anche noi abbiamo uno slogan, viva la società libera e soprattutto viva il progetto illuministico che prevede di portare davanti al tribunale della ragione qualunque affermazione, qualunque fatto, qualunque avvenimento, qualunque pregiudizio. Vi ringrazio e a presto.